Ciao a tutti, questo è un video un po' diverso dal solito, d'altra parte lo chiarisce anche il titolo, quindi non è una sorpresa per chi l'ha aperto. Io mi sono fatto un regalo, è Natale, quindi ho deciso di farmi un regalo, un regalo un po' costoso, forse ho anche speso più di quanto possa permettermi, ma d'altra parte sono cose che si fanno una volta nella vita e sono contento di condividerla con voi. D'altra parte parliamo di un canale di fumetti e io ho acquistato, diciamo anche spendendo un pochino, adesso non è carino così dire quanto ho speso, però insomma ho speso un pochettino, una tavola originale di Ugo Pratt, il grande maestro del fumetto Ugo Pratt, il creatore di Corto Maltese, quindi un mio grande amore, anche se io non l'ho mai trattato sul canale, ma succederà anche questo, ve lo dico già da adesso, il Corto Maltese e non solo, insomma tante altre creature di Pratt sono al centro del mio interesse e del mio cuore, e quindi insomma io ho comprato questa tavola originale di Ugo Pratt e finalmente posso esporla in casa mia, finalmente io posso dire ho una tavola originale di Ugo Pratt che è uno dei miei idoli insomma, e allora io adesso vi mostro questa tavola originale di Ugo Pratt, eccola qua, ecco come vedete è proprio una tavola di Ugo Pratt, cioè appartenuta a Ugo Pratt, tra l'altro mostra anche i segni del tempo perché qui c'erano, vedete, delle cerniere che permettevano, che però si sono rotte, noi permettevano alla tavola di aprirsi in questo modo, no? Cioè c'era un'ulteriore tavola che si apriva di modo che diventava il doppio questa tavola e lui prendeva così forse il tè con i suoi amici, no? Con, che so, con Bo, con Crepax, magari non andava a trovare Crepax, e non è detto che su questa tavola originale sua lui non abbia disegnato anche Corto Maltese, insomma sicuramente, probabilmente così. Quindi niente, sapete non è nel mio, come dire, nel mio essere proprio vantarmi così, però insomma qui non si tratta di così, di ostentare, ecco io volevo condividere proprio con voi che seguite il mio canale questa tavola originale di Ugo Pratt che ho comprato, quindi soltanto questo. Tanto vi dovevo, vi auguro una buona giornata e anche tutto sommato buone feste.